allora sta arrivando la fine del mondo come tutti sappiamo però questa è soltanto una nostra congettura e invece di preoccuparci delle cose che veramente facciamo negative per il pianeta terra per i nostri ecosistemi di che cosa ci preoccupiamo dei maia che profezie non ne hanno mai fatte perché i maia erano degli agricoltori che cosa avevano pensato che ogni volta che il loro raccolto andava male c'era una siccità una carestia qualcosa di questo genere questo non dipendesse dalla terra ma dal cielo allora avevano osservato ossessivamente il cielo in maniera neurotica e hanno scritto queste osservazioni nei loro monumenti di pietra nelle piramidi dello yucatan e ogni volta che c'era una siccità la mettiamo in relazione con un evento astronomico questo non è assolutamente vero ma loro non lo sapevano dunque prima di una data nefasta prevista in base al fatto che certi movimenti astronomici si ripetono nel tempo loro facevano sacrifici e si muovevano in questo senso qua non hanno profetizzato un bel nulla il loro ultimo ciclo temporale era cominciato all'epoca loro finisce alla fine del 2012 poi ne comincerà un altro e così via erano gli unici che ricostruivano questi cicli del tempo dunque sono soltanto astronomi privi di qualsiasi capacità profetica quindi avremo tempo di leggere il libro quindi si può leggere il libro pianeta terra ultimo atto in cui si racconta perché questa è una bufala perché sono bufale quelle di nostra damus le preferenze sul terremoto a roma e lo spostamento dell'asta terrestre l'inversione dei pori cose peraltro pure vere ma che però non portano nessuna fine al mondo allineamento dei pianeti sai quante volte si sono allineati non è successo proprio niente ma invece consente una seconda secondo piano di lettura che è quello che ci dice non preoccupiamoci di queste sciocchezze qui che invece ci piacciono tanto preoccupiamoci di quello che facciamo noi all'ecosistema terra e al nostro benessere perché se continuiamo a muoverci in un certo in un certo modo questa parte più importante del libro perderemo quel benessere se non addirittura avremo una drastica riduzione del numero degli umani sulla terra senti fai parte del cicap no non faccio parte del cicap però sono amici abbiamo tante volte collaborato ma non è tanto la sciocchezza che viene imbastita su questo e quanto che addirittura ci hanno speculato sopra chi ha costruito il bunker sotterraneo chi è andato a vivere in un certo paese che chissà per quale ragione cisternino murge dovrebbe essere risparmiato dalla fine se c'è la fine ci sarà per tutti invece non ci preoccupiamo per niente perché più scomodo ci dà fastidio comporta un cambiamento di abitudini magari un impoverimento dei nostri comportamenti malsani 7 miliardi di individui umani con questo ritmo di sviluppo e di spreco su questo pianeta questo pianeta non riesce a sostenere ci vorrebbero altri 3 4 ok grazie mario grazie a voi